parlo io ok allora cosa apprezzano le ragazze primo appuntamento mi becchi un po allora non sei impreparata perché non ho preparatissima alla ti direi però poi te lo giustifico l'uomo cortese cioè la gentilezza la puntualità anche se io non lo sono però perfetto è bella sta roba qua le donne vogliono quello che non danno io non lo sono esatto lo dico lo ammetto io arrivo tipo mezz'ora 40 minuti dopo anche senza avvertire proprio con tutta calma dando colpa ai mezzi al traffico però apprezzo che dall'altra parte ci sia puntualità e non una grande location anche una cosa semplice anche un panino una cosa semplice con senza tante cose complesse il grande ristorante la grande serata al ballare no cose normalissime però che dall'altra parte ci sia un minimo di corteggiamento carineria e soprattutto cosa sbagliata che io ho sempre fatto quasi sempre ho pagato il primo appuntamento non scherzi no non scherzo e secondo me è brutto non è che è brutto non è tutto dovuto cioè non è che l'uomo uguale deve pagare che sia il primo il secondo la terza volta che vi vedete no non c'è scritto da nessuna parte io l'ho fatto perché sono molto istintiva e veloce se vedo che comunque vedo timidezza imbarazzo o che lui va in bagno si prende del tempo non lo so vedo dei momenti vuoti allora io per per riattivare il tutto prendo mi alzo vado a pagare cioè molto istintiva veloce non lo so mio carattere così e mi sono trovata tante volte sì a dover pagare non solo al primo appuntamento in una situazione anche se più volte ora non andiamo a vedere in dettaglio però sì ho pagato più volte ma non essendo mio fidanzato è solo uscendo insieme le prime volte le due tre quattro volte poi c'è stato per altro no per il fattore chi paga chi non paga però ti dico è una cosa molto singolare perché la situazione che noi stiamo riscontrando sulla base delle consulenze che eroghiamo alle persone è questa riceviamo sempre più spesso richieste di consulenze perché purtroppo le ragazze come dire non è che danno per scontato il primo appuntamento danno per scontato ogni singolo appuntamento cioè che paghi tutto è sempre lui no e allora dopo un mese questi ragazzi ci scrivono al nostro servizio clienti dicono cioè io che cosa devo fare con questa qua perché è due mesi che usciamo e ogni volta questa non apre nemmeno la cerniera della borsa cioè zero no la vedo anche con le mie amiche è tutto scontato è tutto dovuto sì sì io vedo che nei loro rapporti nelle loro uscite frequentazioni di quello che mi raccontano insomma tra ragazze ci si parla come andata come non è andata tutto ok mi è pagato qui mi è pagato la mi ha fatto la sorpresa nelle mie situazioni forse perché la troppa personalità il troppo carattere la velocità che io ho nel dire sempre la mia non la so la la fretta chiamala come vuoi però mi ritrovo spesso e volentieri a pagare e secondo me è brutto il mio pensiero no ti dico è l'esatto contrario di quello che stiamo riscontrando noi sono un caso su miliardi su mille ma sì è così fidati cioè mi è successo più volte però pago tranquilla cioè grazie ciao buona serata ma e poi quando si verifica questa circostanza l'uomo perde di punteggio o no? Allora ai miei occhi sì però non non te lo vengo a dire subito cioè la prima volta faccio finta di faccio finta di non vedere faccio finta di dico vabbè volevo venir via avevo fretta o comunque andavo a lavoro o comunque devo andare a casa mettila così cerco sempre una scusa mi racconto delle scuse per dirmi bea hai fatto tutto sola il classico l'hai voluto tutto lo sei cercato tu la seconda se lo rivedo ne parlo cioè entro nel discorso e dico ma secondo me non è una cosa normale che la ragazza negli appuntamenti in generale parlo poi in generale poi uno si sente comunque messo in dentro la situazione perché se si rivede del comportamento precedente al primo appuntamento come si è comportato si sente toccato cioè si dovrebbe ricordare quello che poi precedentemente ha fatto ovvio ovvio esatto beh che dire ogni volta si scopre qualcosa di nuovo anche con le ragazze un saluto ciao